Bentornati su MyFootballGersey. Vediamo una maglia retro, l'avrete riconosciuta, questa è la seconda maglia del Real Madrid per la stagione 2006-2007, la maglia di Beckham. Grazie per la visione! Fantastica! Nella mia classifica questa prende 5 stelle, fatemi sapere se siete d'accordo o meno. Io questa maglia la dovevo avere assolutamente. Il costo lo vedete qui sopra? Beh, è fantastico anche questo, decidete voi cosa fare ma è veramente un'opportunità imperdibile. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere quali sorprese vi attendono. Ora prima di lasciarvi alla parte delle misure, io spero possiate regalarci un grande like e iscrivervi al canale. A voi non costa nulla ma ci permette di mostrarvi sempre nuove maglie. Ciao, per oggi è tutto! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan!